ciao a tutti questo allenamento e questo video è dedicato alla onlus obesità nutrizione e salute in particolar modo uno dei vostri referenti Giorgio Garofalo che mi ha chiesto di fare questo allenamento adatto a voi e soprattutto per cercare di invogliarvi anche da casa per effettuare giusto 30-40 minuti del vostro tempo in maniera ottimale per quanto concerne invece il discorso dell'allenamento vi servirà soltanto una cassa d'acqua, due bottiglie d'acqua, un'asta da scopa, una sedia possibilmente comoda per il resto ci dovete pensare solo voi no 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 Grazie a tutti.